Buon pomeriggio a tutti. Oggi parliamo di mobilità, di trasporto pubblico a Palermo. Ne parliamo con Roberto Di Maria, che è ingegnere civile trasportista. Buon pomeriggio Roberto, grazie per aver accettato il mio invito. Ciao Filippo e buon pomeriggio anche a te. Allora, su questo argomento c'è parecchia confusione. Noi oggi dobbiamo cercare perlomeno di fare un pochettino di chiarezza. Allora, io vorrei però chiederti intanto qual è la situazione attuale del trasporto pubblico a Palermo, iniziando dalla rete dei bus, per esempio. Sì, guarda, la rete dei bus è formata da ben 271 chilometri di linee, con un totale di 58 linee. La realtà, io adesso faccio vedere una slide, comincio con la slide numero uno, la realtà è un disegno molto complesso delle linee degli autobus, che però, come vediamo, ricoprono tutto sommato completamente il territorio comunale, quindi da un punto di vista della rete non ci sono grossi problemi. Quello che preoccupa è la velocità media, che è di soli 13 chilometri orari a oggi, e un'attesa media alle fermate, una frequenza media di un bus ogni 21 minuti, quindi un'attesa di 21 minuti, che è veramente eccessiva. Questo è dovuto non tanto al parco rotabile, che al 2018 conta 400 mezzi, con un acquisto di circa 150 mezzi programmato per il 2019, che comunque vanno a sostituire mezzi obsoleti, che nel frattempo sono andati fuori esercizio. La problematica vera dell'AMAT in questo momento è la carenza di autisti, a cui si sta sofferendo attraverso un concorso che però sta avendo un iter molto problematico. Questo per quanto riguarda la rete degli autobus, sulla quale non mi soffermerei moltissimo. Per quanto riguarda la novità degli ultimi anni, cioè la rete tramviaria, passando alla seconda slide, noi abbiamo un sistema che dal 30 dicembre 2015 conta 23,3 chilometri di linee, che però, come vediamo, hanno un disegno un po' particolare, perché è una rete sostanzialmente divisa in due. La linea 1, quella che va dalla stazione centrale a Broccella, nella zona sud, separata dalle altre tre, che sono le linee 2, 3, 4, che vanno rispettivamente a Borgonovo, al CEP, e a Corso Calatafini con questa specie di anello che gira con capolinea a Notarbartolo. Un totale di 44 fermati, due depositi, appunto perché ci sono questi due sistemi separati, 17 vetture in servizio, la frequenza massima è di 7 minuti e mezzo sulla linea 1, quella che va da Broccella alla stazione centrale. Il problema è proprio quello dei due depositi, e quindi di un incremento, di un aumento dei costi di esercizio, che, per esempio, per quelle che sono le ultime stime, porta a circa 10-11 milioni di euro l'anno di costi al 2019. Per cui è un grande onere, e questo ovviamente va considerato nell'economia complessiva del trasporto pubblico a Palermo, perché il tram, come sappiamo, è gestito anch'esso dall'AMAT, da questo unico ente che gestisce anche gli autobus, e sappiamo che per i tram è prevista un'estensione molto grande per la rete tramviare, l'amministrazione ci conta molto. Dopodiché nel nostro territorio, e ho fatto un'altra slide, siamo alla numero 3, abbiamo... Ti volevo chiedere una curiosità che riguardava i tram, perché questo grosso impatto, diciamo, sulla città? Non si poteva pensare, diciamo, a realizzare una linea tram un pochettino più soft, quindi meno impatto, meno ferro, meno cemento. Guarda, il problema sta proprio nella tipologia del sistema, perché il sistema tramviario è un sistema, come si vuol dire, rigido, cioè ha degli impianti fissi molto importanti, molto impattanti, perché quando realizzi il tram, deve realizzare ovviamente i binari, e i binari hanno un sottofondo che, diciamo, se parti dalla superficie, prende fino a un metro di profondità, quindi deve andare a modificare tutto quello che c'è sotto la superficie stradale fino a questa profondità. Per questo abbiamo avuto lavori molto pesanti e lavori molto impattanti sulla rete stradale. Ma in molteplicità, diciamo, l'impianto è diverso. Diciamo che questa linea è stata costruita secondo criteri moderni, per cui deve avere anche un armamento di una certa qualità, di una certa entità. In altre città si è costruito, i tram derivano da magari reti preesistenti, per cui all'apparenza sembra che non ci sia questo impatto. In realtà, quando vai a costruire una linea moderna, devi andare a realizzare il cosiddetto pacchetto, quindi il cosiddetto armamento, che deve essere di un certo tipo per poter funzionare. Quello che è importante anche nei tram è l'impianto di alimentazione, l'impianto a catenaria, che come sai ha un costo. Nell'estensione tambiaria, per esempio, quest'impianto a catenaria è stato eliminato. Stavo passando al discorso di passante ferroviario. Passante ferroviario che è un sistema, ormai in esercizio, 35,6 km da Palermo Centrale a Punta Arrasi, con 21 stazioni, 21 stazioni su 25 previste, e il doppio binario per tutta la linea, tranne i 6,7 km tra la stazione Orleans e la stazione San Lorenzo. La frequenza attuale è di un treno ogni 30 minuti per direzione. È molto migliorabile, perché anche nella situazione attuale con questo tratto a binario unico si potrebbe almeno raddoppiare la frequenza, arrivare almeno a un treno ogni quarto d'ora. Poi più tardi magari ne parleremo. Per quanto riguarda l'anello ferroviario, la situazione della linea in esercizio è praticamente della metà, 3,5 km su quasi 7 km, 4 stazioni di esercizio, una frequenza attuale di un treno ogni 30 minuti. In futuro l'anello sarà completato, sarà chiuso, quindi chiudendo da Notar Bartolo, passando per il porto e Politeama, fino di nuovo a Notar Bartolo, un percorso di 7 km, 8 stazioni, la frequenza prevista è di 7 minuti a 30. Ma per avere questo servizio dovremmo aspettare ancora un po', perché come sappiamo i lavori sono in corso e non se ne parla dell'entrata in esercizio, almeno fino al 2023-2024, perché ancora abbiamo questi lavori. Qualche cosa possiamo dire sulla metropolitana che c'è già? Sì, il sistema attuale è quello che si basa sul passante ferroviario e sull'anello, su questa linea Notar Bartolo-Giacchieri. Quello che prevediamo in futuro per quanto riguarda la metropolitana e che è nelle previsioni del Comune è la cosiddetta MAL, metropolitana automatica leggera. Passiamo alla quarta slide che ho preparato. Questa metropolitana dovrebbe partire dallo Svincolo Rete e arrivare fino a Mondello, attraversando tutta la città nell'asse sud-nord. Per quanto riguarda il primo stralcio, di cui già c'è un progetto preliminare approvato al 2014, la linea sarebbe lunga 6 km con 9 stazioni e un deposito, una frequenza dei treni che può arrivare anche a un treno ogni 72 secondi, quasi un treno al minuto. Quindi un sistema molto importante e dà una capacità molto alta, una capacità che può superare i 15.000 viaggiatori ora per direzione. Capacità che si adatta alla domanda presente all'interno della zona centrale della città, che proprio questo sistema va a servire. Adesso vediamo su questa situazione quella che è la criticità che si è creato, lo scontro che si è creato con il sistema trambiario. Io ho preparato un altro slide in cui si vede proprio la sovrapposizione tra l'estensione del sistema trambiario che si prevede sull'asse via Roma, via Libertà, fino allo Stato e poi proseguendo fino allo Zen e ancora fino a Mondello, con la metropolitana che praticamente fa lo stesso percorso. Ora, due sistemi di questo tipo che fanno lo stesso percorso finiscono per entrare in concorrenza. E questa è la vera criticità di un sistema di trasporto pubblico a Palermo che non è stato, a mio avviso, pianificato con criteri ottimali perché abbiamo sistemi che in realtà non cooperano come si dovrebbe fare nel trasporto pubblico ma vanno a entrare in concorrenza. Insistono sulla stessa faccia. Perché parliamo del sistema trambi la 2A e fase 3A. Sì, infatti la cosiddetta seconda fase prevede queste linee che vanno a fare una cosa giusta cioè uniscono i due sistemi separati che abbiamo visto prima la cosiddetta linea C che chiude da Corso Calata Fini fino a Orleans e fino alla stazione centrale il percorso facendo in modo che si possa passare da un sistema all'altro di quelli due attualmente esistenti. Questo è un intervento che a mio avviso va fatto ed è opportuno. Dopodiché è prevista una linea verso Bonagia la linea D che volendo ci sta perché va a servire un quartiere popoloso e anche perché realizza un attraversamento sul fiumo Reto che è molto importante quelle che le linee critiche sono le linee che vanno verso Nod la linea A che attraversa appunto l'asse dicevo prima Roma Libertà fino allo Stadio e poi prosegue su Via Lestrasburgo fino allo Zenne e addirittura fino a Mondello con una dinamazione per Sferracavallo. Sferracavallo è già servito da passante febbraviare basterebbe incrementare le coste sul passante si prevede anche un treno si può arrivare anche un treno ogni 5 minuti quindi sarebbe servita. Mondello che è una località che ha un'utenza stagionale per forza di cose come dire ha un tipo di utenza che difficilmente si adatta a un sistema come il tram e comunque dovrebbe essere già coperto in futuro proprio dalla metropolitana quindi dobbiamo metterci d'accordo quale dei suoi sistemi deve arrivare a Mondello o magari se è meglio che Mondello sia servita da un buon sistema di autobus anche perché ci sono strade molto lariche che si potrebbe realizzare con degli autobus elettrici anche un sistema sostenibile in attesa della futura metropolitana ecco questi sono i problemi che si possono evidenziare che sono stati evidenziati in questo documento che all'inizio dell'anno è stato sottoscritto da diverse decine di professionisti associazioni valermetane che hanno sottolineato le criticità di questo sistema un sistema che dovrebbe essere lungo pensa fino a 100 km di linee e che quindi avrebbe un impatto a livello di discorsi di esercizio notevolissimo sull'azienda che lo deve gestire e che non vediamo non vedo adatto all'utenza soprattutto nella zona centrale della città quindi alcune cose vanno bene alcune cose no e rischiano di creare criticità che poi ci portiamo avanti per qualche decina d'anni la fase 3 invece è una fase di completamento che potrebbe addirittura arrivare il tram a Quillas alla Remella e quindi andando a completare questo sistema nel futuro ma siamo in situazioni molto di là da venire e ancora da progettare e soprattutto finanziamenti per quanto riguarda i finanziamenti sono già disponibili le somme per realizzare tutto quello che abbiamo detto? Allora le somme derivano da due interventi uno è il patto per Palermo e riguarda le linee questa linea centrale la A la B e la C quindi prolungamento lungo l'asse nord-sud della città quest'altra linea che prolunga da Notar Bartolo verso Giaceri la B e la linea C che invece è da Costo Calata Fimi prolunga l'attuale linea fino all'università Orleans e stazione centrale qui ci sono i finanziamenti sono circa 200 milioni anche se in fine anno il comune in consiglio comunale è stato votato mutuo per incrementare questa disponibilità perché ci si è resi conto in fase di progettazione definitiva che occorre trovare altre somme questo mutuo è stato bocciato come sai quindi ci sono state delle polemiche che sappiamo però una quota consistente del frianzamento c'è dall'altra parte nelle linee che vanno tanto per intenderci verso Speracavallo e Mondello e anche per la linea litoranea che dovrebbe andare lungo la Cala via Crispi eccetera c'è un altro finanziamento che con i fondi del Ministero dell'Infrastruttura e Trasporti ex Ministero dell'Infrastruttura e Trasporti ora dell'Infrastruttura della mobilità dell'Infrastruttura e Mobilità Sostenibile per l'esattezza che ammonta circa 500 milioni che è stato assentito a fine anno vogliamo un pochettino riassumere quella che dovrebbe essere la mobilità ideale della città di Palermo secondo il tuo è quello chiaramente dei numerosi tecnici che sono intervenuti appunto con questo ma anche con altri interventi in varie sedi sì sì a proposito di questo io ho fatto anche un piccolo paragone fra Metropolitana e Tram nella zona centrale nel percorso c'è una slide che è la numero 6 nel percorso tra la stazione centrale e il piazzale antistante lo Stato e il piazza Giovanni Paolo II c'è una differenza di ben 12 minuti tra i due sistemi perché la metropolitana impieghiamo quasi 10 minuti con il tram 22 minuti quindi questo significa comprendere le conseguenze se mettiamo del fatto che mettiamo in concorrenza due sistemi poi il cittadino chiaramente sceglie quello più veloce e si rischia di realizzare un sistema con lo gran piano che rimane senza passeggeri è molto importante il ruolo del passante verboviario in uno studio che ho fatto e che è stato pubblicato l'anno scorso su Tecnica Professionale praticamente in una simulazione realizzata sulla situazione esistente e sulla prospettiva a sistema completo noi arriviamo praticamente ad una previsione di 85.000 spostamenti in un giorno quindi è un sistema che ha una potenzialità altissima io credo per fare un po' la quadra di tutto quello che abbiamo detto che un futuro dei trasporti a Palermo debba essere fondato sul passante ferroviario per quanto riguarda l'asse metropolitano quindi quello che raccoglie anche i comuni limitrofi da Cinesi fino a Termini Merese tanto per intenderci e poi un asse fondamentale che dovrebbe essere quello della metropolitana come abbiamo visto da Oreto fino a Tomasonatale Mondello che creerebbe un doppio asse quindi quando avessi qualche linea tram toglierei qualche sì qualche linea tram segnatamente quelle che attraversano il centro perché il tram è un sistema a capacità intermedia i sistemi forti come abbiamo detto il passante ferroviario e la metropolitana che vanno oltre i 15.000 passeggeri ora possono andare bene per attraversare le zone centrali il tram lo vedo bene per andare dalla periferia al centro per esempio vedo molto bene la linea Roccella stazione centrale come vedo bene la linea Borgo Nuovo Notabartolo un domani Giacchieri perché sono sistemi che vanno dai 2.500 5.000 passeggeri ora a contorno di tutto questo le linee bus sì scusa un altro argomento cioè tu hai pubblicato in questi giorni il nuovo progetto per la seconda fase dell'anello ferroviario cosa possiamo dire cioè la prima fase la prima stazione è già completata cioè è stato coperto non completato si sta lavorando agli scavi dal Politeama verso il porto per completare questo la seconda fase il secondo questa seconda fase dovrebbe portare dal Politeama a Notarbartolo passando sotto l'asse di via Paternostro di via una curva verso via Bonettolatini asse Malaspina per arrivare a quello che era una volta il vecchio passaggio a livello di via Malaspina andrebbe a chiudere un sistema che copre una parte che va da Notarbartolo alla fiera e da via l'alazzo chiuderebbe l'anello chiaramente in questo mondo chiuderebbe l'anello che è un anello a binario unico però avrebbe un solo senso di marcia e quindi questi treni girerebbero continuamente e andrebbero a coprire questa zona diciamo che incrementa il bacino di utenza che fa sempre per l'anello senti gli altri mezzi di trasporto adesso ci sono questi monopattini benvenga tutto questo dico va bene la mobilità sostenibile però non possiamo pensare che sia risolutiva del sistema del problema dei trasporti pubblici a Palermo mentre Roberto per quanto riguarda i parcheggi cosa possiamo dire guarda per quanto riguarda i parcheggi anche lì potremmo dire che si è puntato tutto sul tram perché tutto il sistema di parcheggi di Palermo in realtà ovvero la maggior parte di esso è stato inserito all'interno del progetto tram io ho visto un po' l'ubbligazione di questi parcheggi sono rimasto un po' perplesso perché ho visto parcheggi situati molto vicini all'area centrale fuori talico piuttosto che piazza lungheria piazza Don Bosco eccetera penso che sulla linea di quello che sta facendo nelle grandi città i parcheggi debbano essere realizzati più lontano possibile a centro storico in zone in cui si può interscambiare con i mezzi di trasporto di alta capacità per poter arrivare a centro storico non con l'automobile e lasciarla nel parcheggio arrivare direttamente col mezzo pubblico perché questo significa mobilità sostenibile questo significa evitare l'inquinamento e i flussi di traffico elevati verso i centri storici ecco su questo io mi permetto di suggerire parcheggi più lontano possibile dal centro per esempio un esempio può essere Viale Francia un esempio può essere Roccella un esempio può essere il parcheggio di Tommaso Natale che purtroppo da due anni e mezzo è pronto ma rimane chiuso per problemi burocratici che non affronto in questa serie senti per quanto riguarda invece il Ponte Corleone cosa c'è da dire? è una situazione molto preoccupante devo dire perché ho letto le relazioni l'ultima dei Vigili del Fuoco è francamente un sistema è un'infrastruttura che va tenuta sotto controllo dobbiamo considerare che è un'infrastruttura che insiste sull'asse della circombollazione che in questo momento è l'asse principale per collegare zona nord e zona sud della città e abbiamo finito di dire che il collegamento nord-sud è essenziale per la città non solo è l'infrastruttura fondamentale per arrivare in tutta la zona occidentale della Sicilia quindi se venisse ad essere interrotto chiuso al traffico il Ponte Corleone noi avremmo tutta la Sicilia occidentale sostanzialmente isolata questo è un grosso grosso problema affrontato immediatamente secondo me con interventi d'urgenza l'ordinario non è possibile ma quali sono questi interventi d'urgenza quali potrebbero essere? commissariamento commissariamento subito stile Genova non è che può intervenire il genio militare per costruire un ponte provvisorio assolutamente no ma no perché le dimensioni non sono quelle del Ponte Bale e della Guadagna tanto per intendeci qua parliamo di infrastruttura lunga e soprattutto con un grande dislivello da attraversare vediamo che c'è questo questo grande arco per cui è una struttura che non è alla portata di questo tipo di situazioni provvisorie senti hai visto il nuovo progetto del porto di Palermo molto bello proprio oggi ho fatto uscire sul mio blog il video devo dire che è molto bello molto interessante risolve molto bene il conflitto tra i mezzi pesanti e i pedoni ed ha anche un tocco di modernità a quest'area che devo dire io invece sono un po' che non perplesso perché non mi sembra che tenga conto della vocazione verso il mare della città di Palermo ci sono mi sembra troppe strutture che impediscono diciamo la vista del mare oppure è un'impressione mia io penso che nell'area portuale una struttura del genere vada fatta proprio per dividere i vari livelli dei flussi di mobilità credo che invece vadano valorizzati come dici tu molto bene gli altri litorali Foro Italico Santerasmo io dico che per una mobilità moderna all'altezza della situazione queste sono strutture che servono poi chiaramente si può lavorare sull'impatto sulla gradevolezza estetica e si può sempre migliorare il porto moderno e delle vie del mare che cosa mi dici se tu potresti ipotizzare un collegamento attraverso il mare tra i vari punti estremi della città anche in questo caso dico si dice il zucchero non guastabelando nel senso che benvenga un sistema di questo tipo ma anche in questo caso dico non è risolutivo la capacità di trasporto che è necessaria di cui abbiamo parlato prima con flussi di un certo tipo non è alla portata di questi sistemi questi sistemi possono coprire una domanda intermedia una domanda magari anche turistica che dia la possibilità di vedere la città dal mare per esempio ma non sono risolutivi per il trasporto pubblico per il trasporto pubblico ci vogliono grandi infrastrutture a terra allora il famoso tunnel di cui parlava Cancelleri se ne parlava in passato prima doveva collegare il porto attraverso via Belgio con via la regione siciliana ora sembra che ci sia un'altra idea tu cosa ne pensi anche della pedemontana e la sopraelevata della circonvallazione via la regione siciliana del tunnel ne ho parlato con Pascualino Monti in diretta online e ho espresso le mie perplessità perché a mio avviso va molto bene per l'autorità portuale ma non va altrettanto bene per la città perché rischia di portare appunto molto vicino al ridosso del centro storico con uno svincolo una quantità enorme di flussi veicolari molto meglio sarebbe stato ecco tu dicevi una cosa interessante la rinforzare l'asse della circonvallazione o magari realizzare una vera tangenziale a Palermo per quanto riguarda la sopraelevata credo che ormai sia andata in soffitta molti anni fa e non la riprenderei come sistema anche perché è molto impattante con l'ambiente urbano io sulla circonvallazione invece penserei ad un interramento almeno parziale delle carreggiate centrali che tra l'altro è previsto nel piano regolatore quindi basterebbe attuare quello che c'è va bene Roberto ci fermiamo abbiamo tentato di chiarire alcuni aspetti di questa mobilità a Palermo io rimango molto molto pessimista ma non solo per quanto riguarda la mobilità a Palermo per quanto riguarda anche il piano regolatore della città di Palermo e insomma per tutta una serie di provvedimenti che non vengono attuati che non mi lasciano be' sperare comunque io però ne continuo a parlare perché ritengo che sia importante parlarne quindi ti ringrazio per questa tua disponibilità e a presto grazie a te una buona serata Grazie a tutti